Per quanto riguarda Barsila, su cui il Governo sin dall'inizio ha messo l'attenzione, nella convinzione che sia possibile, ed è qui il nostro impegno, trovare una soluzione di alto profilo, mi auguro, internazionale e industriale. Sono convinto che ciò accadrà nelle prossime settimane e per questo oggi rassicurerò i sindiacati, non solo sull'impegno del Governo, ma sul fatto che la soluzione ci sarà, che sarà una soluzione di altissimo profilo industriale, tecnologico e internazionale, come meritano i lavoratori di Barsila. Posso assicurarvi che siamo in campo e sono in campo le migliori imprese e che una soluzione ci sarà di natura tecnologica e industriale all'altezza della storia e dell'esperienza e anche delle capacità che i lavoratori della Barsila hanno maturato nel tempo. Grazie a tutti.